Vangora elettrica, ti do un secondo la recensione di questa qua e te la faccio anche vedere a cesa, guarda Questi 3 tappi indicano la carica, quello sotto c'è livelli di potenza, con questa rotella c'è nuova la potenza Poi si illumina sotto, per una questione di riflessi non posso muoversi Eh, se no, immobilizzai, immobilizzai, questo è su 60€ questa qua, è molto difficile, visto che ce l'hanno in canti, quindi è un prezzo per stacco valido Nel multilusco Ok Ok, devi andare piano, non veloce, eh Se no, ovviamente, probabilmente quelle danno di 100.000€, passi nel secondo, è già per passi, ok, il Q6